presentiamo i due contendenti all'angolo rosso per l'mma eagles di trento silvano bolognani sono quindi vado avanti a cazzeggiare dopo tagliamo e ora il suo avversario all'angolo blu per il team D'Ambrosio di Roberto Carlo D'Ambrosio Carlo D'Ambrosio D'Ambrosio Roberto è la prima ripresa inizia in questo momento amici un confronto di MMA fra Silvano Bolognani di Trento della MMA Eagles e Carlo D'Ambrosio di Rovato per il team D'Ambrosio i due atleti sono già al suolo tentativo di chigliottina ma vediamo se sarà possibile finalizzare l'azione partito subito forte questo combattimento con questa presa che indubbiamente è una presa efficace potrebbe essere anche risolutiva ancora fase di studio e di controllo per cercare di ottenere quel vantaggio improvviso e niente l'azione ritorna in piedi Bolognani con i pantaloni rossi D'Ambrosio con pantaloni mimetici tonalità grigia Bolognani è in posizione superiore tenta di colpire l'avversario e immobilizzarlo sta portando una serie di pugni a martello non indifferenti Carlo D'Ambrosio un po' in difficoltà ma comunque ci sembra ancora vigile in grado di difendersi il combattimento continua Silvano Bolognani risulta veramente molto molto efficace combattimento terminato quindi allora qui è una serie di pugno noi si chiamano di moglie moglie premio Marco Panaccioni per la premiazione che abbiamo sul ring un altro dei nostri gradini ospiti abbiamo il piacere di avere fra di noi il maestro Marco Panaccioni ed eccoci quindi al risultato ufficiale vincitore per TKO a 2 minuti e 10 secondi della prima ripresa Silvano Bolognani un applauso a Silvano Bolognani ricordiamo della NMA Eagle sul Trento e un applauso meritato anche al suo avversario Carlo D'Ambrosio passiamo al successivo incontro Muai Dai 3 round da 3 minuti all'angolo rosso Tiziano Campus ora vediamo di capire se ha la baglietta magari questo è 3 per 3 ho sbagliato la baglietta ma non penso più eh infatti un applauso a Silvano ah allora è proprio quello Tiziano Campus ed ora il suo avversario all'angolo blu per il team Canova di Asolo Nicolae Ginzari grazie a tutti grazie a tutti ora Grazie per la visione Nicolae Cinsari per il team Canova-Asolo Ricordiamo che Nicolae Cinsari ha un record di 54 incontri con 37 vittori, 8 prima del limite Inizia in questo momento il confronto di Muay Thai classe A fra Tiziano Campus in questo momento alla sinistra con pantaloncini gialli e Nicolae Cinsari con pantaloncini neri con decorazioni d'oro Combattimento di Muay Thai sulla distanza delle tre riprese da tre minuti Sono entrambi atleti dotati già di un notevole bagaglio tecnico e di una notevole esperienza agonistica per cui ci aspettiamo sicuramente un match interessante Vedete che entrambi utilizzano anche le protezioni ai gomiti proprio perché a questi livelli le tecniche di gomito oltre a quelle di ginocchio sono assolutamente autorizzate Cinsari prova qualche attacco alla lunga distanza più che altro di studio per vedere qual è la reattività del proprio avversario anche Tiziano Campus assolutamente molto concentrato sempre pronto a rimettere l'azione con, avete visto in questo momento, tecniche di pugno utilizzando la sua falsa guardia ossia con il destro avanzato rispetto all'avversario fase di corpo a corpo tentativo di ginocchiata di Campus che però viene interrotto dall'arbitro per riprendere l'azione al centrogambio bel middle kick sinistro di Campus che arriva al messaglio che poi, vedete, continua nella medio-corta distanza con tentativo di ginocchio e pugno Cinsari prova una gomitata girata che non va al bersaglio e ora di nuovo nel corpo a corpo per cercare di utilizzare in questo caso le tecniche di ginocchio niente di fatto l'arbitro giustamente dai lo stop si ritorna alla lunga distanza finta di middle kick sinistro di Campus e ora invece un middle kick arriva a segno anche una ginocchiata sinistra Ginsari è un pochino in difficoltà in questa fase che poterà anche determinare una ginocchiata al mento e termina in questo istante la prima ripresa termina la prima ripresa e la seconda ripresa riprende il confronto fra Tiziano Campus e Nicolai Ginsari siamo all'inizio del secondo round subito tentativo di clinch da parte di Campus che si dimostra particolarmente portato verso il combattimento corpo a corpo alcune azioni di pugno alla distanza medio lunga ora si ritorna a lunga distanza fase di studio finta di front kick da parte di Ginsari ma azioni di rimessa di Campus che ancora una volta chiude le corpo a corpo e cerca di sbilanciare l'avversario fasi di ginocchio non particolarmente efficaci l'arbitro dà lo stop riprende l'azione da lontano middle kick sinistro di Campus doppiato dal diretto sinistro ed ora di nuovo nel corpo a corpo Ginsari ha provato a sbilanciare l'avversario senza però in questo caso riuscirci middle kick di Campus bloccato ora entra con un pugno poi middle kick sinistro di nuovo al fegato questo grazie al vantaggio in questo caso della falsa guardia abbiamo notato che riesce a entrare con notevole efficacia proprio con la gamba sinistra caricata Nicolai Ginsari comunque cerca di rispondere colpo su colpo anche se ovviamente la del Saratizza di fronte è senz'altro impegnativo ricordiamo che Ginsari ha una notevole esperienza agonistica della Muay Thai con un record di 54 combattimenti con 37 vittorie di cui 8 prima del limite nel suo record ci sono due titoli italiani di Muay Thai nel circuito Fight One dei due titoli nel circuito Fight One ecco un'azione molto incisiva di Campus che ha portato l'avversario contro la parete della gabbia e gli ha scaricato una serie efficace di Puglio ora sta aumentando l'intensità di attacco Campus ancora una volta con il middle sinistro caricato Puglio parzialmente evitato e anticipato da Ginsari Ginsari prova un high kick prova a vuoto e ora il pugno al volo di Ginsari replicato da un tentativo di pugno girato di Campus ora il middle kick con presa presa della gamba di Campus e si ritorna ancora contro la gabbia in un tentativo di clic riparte l'azione al centro gabbia e proprio in questo momento termina la seconda ripresa termina la seconda ripresa terza e ultima ripresa inizia in questo momento la terza e ultima ripresa del confronto fra Piziano Campus e Nicolai Ginsari subito i due atleti entrano nel corpo a corpo tentando di applicare tecniche di ginocchio efficaci ma per il momento nulla di fatto si ritorna alla lunga distanza Campus sempre alla ricerca del colpo forte del colpo decisivo Ginsari comunque ancora molto attento in guardia armetica cerca di neutralizzare l'avversario proiettandolo però onestamente provando un'azione di proiezione colpo d'anca che nella Muay Thai non è ammessa quasi fine round tra poco finisce il round e riprende l'azione l'arbitro giustamente ha avvisato Ginsari di non utilizzare i colpi d'anca ora un bel front kick di Ginsari e combinazione di pugno e ginocchio di Campus arrivato al bersaglio solo parzialmente un bel front kick dal resto di Ginsari che ha capito forse che per lui sfruttarlo a lungo può essere assolutamente utile proficuo ha fatto vedere infatti in quest'ultimo round dei bei front kick portati a livello medio che sono riusciti a intercettare l'azione aggressiva di Campus ora invece si entra alla corta distanza dove Campus dimostra obiettivamente una maggiore padronanza vengono sistemate le protezioni ai gomiti a Ginsari e riprende l'azione bel tentativo di ginocchio di Ginsari non poteva essere una tecnica assolutamente efficace neutralizzata ora è la volta di Campus che porta i suoi attacchi diretto sinistro gamba sinistra di nuovo tentativo di corpo a corpo nulla di fatto l'arbitro separa i due contendenti di nuovo azione di attacco di Campus che vediamo perdere il sangue dallo zigomo sinistro non ci sembra però per fortuna una ferita particolarmente pericolosa siamo all'ultimo round quindi non ci dovrebbero essere problemi per lui nel terminare senza difficoltà il combattimento probabilmente è una tecnica di gomito solitamente sono quelle che aprono più facilmente dei tagli e termina infatti l'ultimo round termina l'incontro vincitore dell'incontro il risultato l'atleta all'angolo rosso Tiziano Campus un applauso al vincitore Tiziano Campus del team San Paiac all'angolo rosso Laurenti Partenie anche qui non sappiamo niente di questo Partenie qualche cosa non so il team nulla non so farebbe so farebbe un 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 Ehi! 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 Marco! Pugioni! Team Mazzocchi Rover! Ed ora il suo avversario! All'angolo blu! Dalla Pro Evolution Fight Nesio! Davide Guarino! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Contro Davide Guarino Pantaloncini neri con bordi laterali rossi Sono due atleti dotati di grandissima esperienza Hanno un background veramente notevole di match disputati Sono dei veri classe A E si confrontano sulla distanza delle tre riprese Come ti tocca subito? In questo confronto sportivo Davide! Più convinto! Davide convinto per favore Davide convinto! Ballo! Ballo! E rientra Davide subito! Davide rientra Davide! Non c'è una faccia qua Fase di studio Entrambi gli atleti Sanno dell'esperienza del proprio avversario Quindi non vogliono compiere passi falsi Un bello kick destro di Davide Guarino è arrivato a bersaglio Ma Pugioni restituisce subito il colpo Di nuovo il low kick di Davide Guarino Che sembra rivelarsi un'arma efficace Low kick con la gamba dietro Vedremo se questa potrà essere la tecnica vincente per lui Nello stesso tempo Marco Pugioni Ci risulta molto attento con la guardia pugilistica Quindi nella parte alta sicuramente vanta una grandissima esperienza Termina in questo momento la prima ripresa Termina la prima ripresa E' la seconda ripresa Riprende il combattimento Siamo all'inizio della seconda ripresa Fra Marco Pugioni di Roma e Davide Guarino di Desio Begli scambi di box Doppiati da low kick al centro gabbia Ottima impostazione di entrambi Vedete l'esperienza si nota subito Il colpo d'occhio, l'impostazione pulita Il senso del tempismo e della distanza Con tentativo di ginocchiata da parte di Pugioni Non però è arrivato al bersaglio Ora una buona combinazione di pugno al corpo di Pugioni Doppiato anche a livello alto Ma Guarino sta riprendendo in mano la situazione Rispondendo quindi all'attacco che gli ha portato l'atleta Romano Questa volta è Davide Guarino che ha provato a stare con Sta provando con il cambio della guardia Avete notato che prima era con il destro avanzato Ora con il sinistro avanzato Scambio di calci molto caricati Low kick molto caricati da parte di Pugioni E Davide Guarino cerca di rientrare di pugno Ma Pugioni lo ha anticipato Entrando di destro e poi provando anche la ginocchiata Ancora l'azione in mano a Pugioni Ma Guarino ha provato un controattacco Ora middle kick sinistro arrivato a segno Bella schivata sul tronco di Pugioni Contro il gancio di Guarino Ora Pugioni riprova con il low kick sinistro interno Ora combinazioni di pugno Scambi rapidi da parti entrambi Pugioni ha forse leggermente la meglio anche in questo scambio Termina la seconda ripresa Terza e ultima ripresa Inizia ora la terza e ultima ripresa del match fra Marco Pugioni di Roma e Davide Guarino di Desio Subito in fase di studio al centro Gabbia Parte un middle kick un po' basso sotto la cintura Con tutto il volontario per Davide Guarino Il match riprende fortunatamente niente di grave Ora Davide Guarino mostra più incisività nelle sue azioni Ha tirato una bella combinazione di due mani di pugni al corpo e alla testa Marco Pugioni è in difficoltà in guardia passiva quasi ma si è spostato Bisogna sempre stare attenti in quanto Pugioni ha una grandissima esperienza Quindi potrebbe venire fuori con qualche colpo improvviso Ad esempio adesso sta provando anche il ginocchio Davide Guarino ha capito che può essere il suo momento quindi cerca di intensificare l'azione Siamo all'ultimo round Sono i colpi importanti Ecco ancora dei pugni che arrivano a segno da parte di Guarino Ma Pugioni adesso ha recuperato e risponde colpo su colpo Bello in suo montante destro Low kick sinistro di Davide Guarino Siamo quasi al termine della ripresa Ultimi scambi Ancora una volta Davide Guarino riesce a arrivare al avversario con delle combinazioni di pugno Di Guarino ha provato altro il calcio girato L'ho arrivato a segno Ora corpo a corpo anche forse un po' per recuperare E termina in questo istante un match veramente combattutissimo Termine l'incontro Applausi meritatissimi per i grandi atleti Abbiamo un perdetto a maggioranza Vincitore dell'incontro è giuntato l'atleta all'angolo Blu Davide Guarino Un applauso meritatissimo a Davide Guarino Ma un applauso amici altrettanto meritato Al suo coraggiosissimo e bellissimo avversario Marco Pugioni E ora amici siamo arrivati all'ultimo match della serata La finale dello Slam 4 di Free Fight Presentiamo quindi due finalisti Tenendo presente che all'inizio del galassi sono confrontati quattro atleti Quindi presentiamo i due atleti che hanno superato il turno All'aerolo rosso per il Kung Fu Club Sassuolo Michele Mazzola Grazie a tutti 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 Siamo arrivati amici alla finale dello Slema 4 di Free Fight e i due finalisti sono Mazzola all'angolo rosso e Pescara all'angolo blu Pescara riconoscibile con pantaloncini verdi mentre Mazzola con pantaloncini blu e rossi è partito adesso il combattimento, Pescara inizia a portare come ormai abbiamo visto le sue efficaci e anche spettacolari tecniche lunghe ma Mazzola ci risulta molto determinato, molto concentrato e almeno in questa fase ci risulta preferire le tecniche alla media e corta distanza Bel gancio sinistro di Mazzola Ora tentativo è presa con una sola gamba, single leg e proiezione sempre di Mazzola su Pescara Come paywall Riprende nuovamente l'azione al centro a Gabbia Tentativo ancora di calcio di Mazzola neutralizzato da Pescara, ancora scambio, ecco calcio Tentativo di high kick di Pescara questa volta e ginocchiata di Mazzola Termina in questo momento su questa proiezione la prima ripresa Termina la prima ripresa E la seconda ripresa Parte ora la seconda ripresa tra Mazzola, pantaloncini rosso-blu e Pescara, pantaloncini verdi con banda nera per questa finale dello Slam a 4 di Free Fight nella categoria 75 kg Abbiamo visto ormai lo stile che stanno applicando i due contendenti Giustamente Pescara cerca di usare tecnica a lunga distanza Sfruttando quindi il suo allungo, calci alti e colpi di sbarramento Mentre Mazzola un pochino più basso cerca di chiudere la distanza e utilizzare maggiormente le proiezioni Oltre che i calci baschi e le ginocchiate Ancora una volta Mazzola adesso con middle kick Passa sotto Ribaltamento di Pescara Di Pescara Free Fight Free Fight questo qua eh Free Fight Free Fight eh Eh ma bisogna dirglielo, loro non sanno nulla Allora, larga il tuo gatti di occhio Non chichi infatti, vai Non cos'anno nulla, vale Ehi no, non sanno nulla eh, bisogna dirglielo Dilglielo, magari cosa vuoi dire Eh? Guarda che Vai avanti allè Diretto destro di Mazzola tentativo di pugno girato e ora si rientra nel clinch con Mazzola all'attacco e termina in questo momento la seconda ripresa. Inizia la terza e ultima ripresa di questa finale di Free Fight. Ancora una volta Mazzola esegue una bella proiezione su Pescara. Colpo d'anca, una delle tecniche favoritte dagli judoisti. Ora scambi alla lunga distanza. Pescara cerca di riprendere l'azione alla lunga con i suoi calci. Il tentativo di low kick è andato a vuoto. Middle kick sinistro arrivato a segno ma non eccessivamente potente di Mazzola. Mazzola scambi di ginocchio dai trendi. Niente di fatto. L'arbitro Gallarati dà lo stop e si riprende la lunga distanza. giralo! Giralo giralo! buttalo giù, buttalo giù Ale vai vai ancora ancora buttalo giù Ale continuo attaccalo attaccalo alla fine abbiamo sovruttato la mia rete attaccalo vai 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 lo kick visto che ti piacciono è la mia ancora ancora attaccalo attaccalo Ale vieni giù vieni giù guarda qui sono chicche non sono caramelli buonissime un'altra proiezione di Mazzola su Pescara che risulta visibilmente provato e proprio ora termina l'incontro un incontro sicuramente molto impegnativo termina l'incontro ed eccoci al risultato ufficiale vincitore dell'incontro e quindi vincitore di questo torneo Slam 4 di Free Fight è risultato l'atleta all'angolo rosso Michele Mazzola un applauso al vincitore Michele Mazzola un applauso anche al suo bravissimo avversario Pescara del Team Gladiator Milano ovviamente un ringraziamento particolare al maestro Alessandro Piavani organizzatore Deus Ex Machina della situazione e naturalmente al grande campione di cucinato Messi che è stato presente con noi per tutta questa serata e ha partecipato all'organizzazione un ringraziamento ovviamente anche agli arbitri giudici dell'organizzazione alla campionessa del mondo Sonia Di Piase che è stata presente con noi intervistando gli atleti e grazie a voi amici del pubblico buona continuazione di serata e arrivederci alle prossime manifestazioni con gli Sporting e un saluto carissimo al grandissimo presentatore Rinaldi grazie a tutti